Tiziano Ricci, presidente del settore alimentare di Casa Artigiani Taranto, siamo qui per questo festival del cioccolato, un evento che davvero conferisce lustro alla città di Taranto. È un modo per far crescere il territorio, per dare una dimensione nazionale di Taranto perché qui, come vedete, vi sono varie realtà artigianali nell'ambito della produzione del cioccolato provenienti da tutta Italia. Una manifestazione che, oltretutto, a differenza di altre che si sono realizzate in passato, rispetta le varie normative per eventi del genere, eventi di massa, con il rispetto delle normative nei vari settori. Sì, assolutamente sì, è una manifestazione importante a livello nazionale, è lo stesso festival che fanno a Sulmona, quindi non parliamo di una cosuccia, insomma, è un evento importante. Ci tengo a sottolineare che sono state rispettate tutte le norme igienico-sanitarie e le norme di sicurezza minime previste per fare questi eventi. Abbiamo messo i bagni chimici, il Comune ha messo a disposizione 21 cassonetti in più della spazzatura messi qui intorno alla piazza, sperando nella civiltà della gente. Quindi sicuramente è un qualcosa di diverso rispetto agli altri eventi che sono stati fatti in passato. Sono stati rispettati tutti i parametri che potessero far svolgere un evento nel miglior modo possibile. Oltretutto abbiamo anche rispettato i commercianti della città, poiché prima di invitare tutti i partecipanti a questo evento, mi riferisco a coloro che hanno preso in fitto i gazebi queste pagode, abbiamo mandato 480 raccomandate a tutte le pasticcerie e le cioccolaterie di Taranto, purtroppo avendo un pessimo risultato, evidentemente non c'era interesse da parte delle pasticcerie. Di conseguenza ci sono altri che hanno preso il posto e quindi cerchiamo di fare qualcosa di qualità per questo centro. Taranto ha bisogno di questi eventi, Taranto ha bisogno di rinascere per poter affrontare il futuro nel migliore dei modi. Grazie. 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 Grazie.